Oggi siamo tutti ebrei. Ecco perché, Aldo e Dio, indossiamo la stella di David. Siamo tutti ebrei perché non esistono differenze in grado di dividere e uccidere, ma soprattutto siamo tutti ebrei perché non dobbiamo dimenticare l'orario della Shoah. La Shoah ha avuto inizio dai piani diabolici di Adolf Hitler, che in nome della purezza della razza ariana ha messo in atto lo sterminio più terrificante della storia dell'umanità. Milioni di ebrei privati della loro identità, spogliati dai loro abiti e deportati nei campi di concentramento, sfruttati e torturati fino alla morte. Anche Elisa Springer è stata deportata nei campi di concentramento perché è colpevole di essere ebria. Nel 1945 è stata liberata e, orientata in Italia, ha speso gli ultimi anni della sua vita raccontando soprattutto ai giovani la sua storia di perseguitata e deportata. Da questi incontri è nato il suo libro, L'Eco del Silenzio, la Shoah raccontata ai giovani. Elisa Springer era fortemente convinta che, in ricordo di una delle pagine che vedo l'umanità, potesse servire a diffondere valori come la solidarietà e la toleranza, legume i carni possibili contro l'odio e l'indifferenza, ed educare ad una scelta di pace e fratellanza. Oggi è il 27 gennaio, una data che tutti noi non possiamo dimenticare. Oggi è la giornata della memoria, istituita per non dimenticare tutto quel che è stato. Se la sua esistita, la colpa è anche sicuramente dell'intera umanità. Mentre Hitler, infatti, metteva in atto il suo piano orribile, l'umanità intera, all'inizio, assistita indifferente a quel massacro di vite umane. Ecco, oggi noi non possiamo più restare indifferenti davanti a nessun tipo di orrore. Dobbiamo abbattere il muro dell'indifferenza, così come è stato inciso nel marmo del binario 21 della stazione centrale di Milano. Da lì sono partiti tre treni, da cui è partita anche la senatrice Liliana Segre. Facciamo attenzione! Oggi la Shoah è anche l'indifferenza verso i migranti, i malati, le donne vittime di femminicidio e i bionmini maltrattati. Non dimentichiamo mai che le differenze sono una risorsa e non devono farci paura. Ma soprattutto non dimentichiamo mai che siamo tutti esseri umani. Per noi la Shoah ha diversi colori, rosso come la passione per il cambiamento. Nero perché la Shoah rappresenta una delle pagine più buie della storia. Arancione perché il messaggio di Isa Springer è un messaggio di attenzione. Ognuno di noi deve stare attento e deve impegnarsi affinché ciò che è stato non si ripeto. Il verde, come la speranza che il mondo dell'indifferenza dell'umanità sta per ossia per sempre abbattuto. Un'verso in attenzione. Un'verso in attenzione. Un'verso in attenzione. Grazie a tutti.